Amici 3B Meteo, benvenuti a questo aggiornamento delle nostre previsioni per la giornata di mercoledì che vedrà il graduale allontanamento della perturbazione giunta sull'Italia martedì. La sua coda interesserà in parte le regioni meridionali ma con pochi effetti e per il momento le perturbazioni atlante rimangono a distanza dall'Italia, quantomeno provano ad avvicinarsi ma per ora ci lasciano in pace. Giornata di mercoledì quindi che vedrà ampie zone di sereno ma ancora qualche nuvola al mattino all'estremo nord-est e poi dicevamo un po' di nuvolosità transita sulle regioni meridionali. Come precipitazioni qualche residuo acquazzone al mattino in Friuli Venezia Giulia e poi in giornata magari due goccioline nelle zone interne del centro-sud a ridosso dell'Appennino potrebbero spuntare fuori ma fenomeni comunque per lo più isolati. Quindi in definitiva giornata di mercoledì che vedo un netto miglioramento al nord solo all'estremo nord-est ancora al mattino sano presenti delle piogge. Tempo buono nell'Italia centrale diciamo qualche nuvola transita al sud ma queste gocce di pioggia che interesseranno principalmente la campagna e la dorsala penninica sono davvero precipitazioni per lo più di debole intensità. Come temperature e valori nella norma al centro-nord ancora caldo nelle regioni meridionali. Con questo è tutto per sapere nel dettaglio cosa capiterà da voi scaricate l'app gratuita di Trebi Meteo.